Poiesis ci aspetta il 19 e il 20 ottobre presso l'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, ma di cosa si tratta? Poiesis è una mostra d'arte contemporanea, è una collettiva perché appunto è partecipata da giovani artisti emergenti. È organizzata da Rotaract Palermo Ovest e da Rotaract Palermo, insieme a Uriel Academy, che è una scuola d'arte, e la Porta dell'Arte, che è un'associazione artistica. Il ricavato della raccolta fondi andrà a finanziare il progetto artistico Le Gocce di Emozioni, ideato dalla Scuola Partire per l'Infanzia alla Taria dei Piccoli e patrocinato da Conf Cooperative Sicilia. È un progetto che appunto consiste in laboratori artistici per bambini e ragazzi affetti da disturbi allo spettro autistico. In secondo luogo, una parte dei proventi, quindi del ricavato, andrà a finanziare la riqualificazione di alcuni spazi dell'Abbazia. Vorrei appunto cogliere l'occasione per ringraziare i patrocinanti, ovvero Conf Cooperative Sicilia, l'Abbazia di San Martino delle Scale, che ci sta aprendo le sue porte, il Rotaract Palermo Ovest e il Rotaract Palermo.